poca più sto crowdfunding serve partire su skate a fare un film se ti metti tanti skate puoi partecipare al progetto se te ne metti abbastanza te puoi stare un giorno sul set e se te ne metti di manco te puoi fare che ne sono un selfie con gli attori ma se è possibile che non te ne metti niente con cinque euro con cinque euro al massimo te faccio una foto col cartonato degli attori non ti ho niente da me io un autografo di chi? del sommario del direttore della produzione ehi non voglio se pochi skate non vuoi niente con il regista con Emilio Briguglio potrei fare un spritz un spritz con Briguglio? beh te lo paghi tu? io lo pago mi? si non vuoi mi ha problemi ma non al stesso tavolo come sarei a dire non al stesso tavolo se è quello che posso fare con cinque euro mentre mi manca un tavolo vicino va bene al tavolo vicino ma non al stesso giorno biondo che ho 50 euro minuti presto niente ma io ho sentito se è una nobile causa biondo che ho 50 euro